Allora siamo in videochiamata con Martina Barani. Martina la conoscerete perché è stata una protagonista di X-Taro qualche anno fa e ha fatto una grande carriera. Oggi infatti è con le ragazze delle Dolce Vita, se non sbaglio, a Roma e questa sera è in una trasmissione importante. In che trasmissione siete? Poi presentaci anche le tue colleghe. Ciao, ciao a tutti. Intanto noi siamo le Dolce Vita, Jade e Giada. E Martina io. Domani sera saremo su Rai 1 nel programma I migliori anni insieme al nostro amico Aleandro Baldi che è qui con noi e dopo vi passeremo. Noi qua abbiamo infatti dei grandi appassionati sia vostri che di Aleandro Baldi, insomma. Come siete arrivate fino a Roma? Che questa è una curiosità e in un programma così prestigioso. Allora, per fortuna a Roma ci siamo venuti in treno perché in macchina non saremmo mai arrivate oggi visto le alluvioni, no, a parte gli scherzi. Noi siamo qui grazie al nostro amico Aleandro che ci ha dato l'opportunità di campare insieme a lui e un brano storico che ha vinto Sanremo nel... Aleandro? Nel 92. No, lo ricordo, vero. Non amarmi. Quindi la vostra esibizione di quanto durerà? In che orario più o meno sarete? Così lo riusciamo a far sapere anche. Più o meno saremo dalle 11 e mezza in poi, ma forse anche un pochino prima, non si sa. Voi seguiteci, state connessi e non vediamo l'ora veramente. Ottimo. Ci fate conoscere, parlare anche con la star, oltre a voi che siete star anche voi, insomma. Ok, un attimo che mi avvicino, che così... Ciao, ciao a tutti. Ciao, Eandro. Tutto bene? Come sono le ragazze? Ah beh, diciamo, avendo le prese con me, dice tutto. Sono ragazze... Bravissime. Insostituibili, impagabili, ecco. Sono veramente delle ragazze squisite. Dove le hai trovate? No, come vi siete trovati? Le ho trovate dove andiamo domani e domani l'altro a Pisa. Le ho trovate lì. Ah, ho capito. E me le sono innamorate subito, ecco. Eh, hai fatto bene, insomma, sono davvero... Meritano da quello... Noi conosciamo Martina, che ha fatto davvero grande scalpore qua al nostro territorio, e se la ricordano ancora tutti, quindi è una grande. Le altre le conosceremo e le vedremo bene domani sera, insomma, quindi... Ah, beh, certo. Poi, insomma, l'Emilia è stata un po' la mia seconda terra, perché pur essendo toscano, da bambino sono vissuto molto in Emilia, esattamente a Reggio, quindi... Ah, vicini di casa, più o meno. Correggio, ecco, ecco.